Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oppure bentornati in questo nuovo video Questo è Disaster Makeup Oggi parleremo di qualcosa di molto importante Non è makeup in sé, però è una cosa molto importante al fine stesso del makeup Ovvero la cura della propria pelle Per cui oggi parleremo di creme solari In estate sono importantissime, sono importanti tutto l'anno Però perché il sole ovviamente colpisce sempre In estate però diciamo che siamo più esposti al sole Un sole molto caldo, un sole molto forte Per cui diciamo che siamo molto più prudenti in estate Per questa motivazione volevo farvi una piccola classifica Sulle creme solari che ho provato quest'anno Prima le testerò sulla mia pelle Così vedete un pochettino il fattore se unge, se non unge Molti altri fattori sono legati appunto alle creme solari E poi dopo farò una piccola classifica magari a fine video Di creme solari non ne ho moltissime Ne ho quattro per l'esattezza Però non ne ho voluto acquistare altre Non ne ho voluto prenderne altre per questo video Perché siccome che le creme solari quando le apri Poi durano circa sei mesi, un anno Non mi sembrava il caso di sprecarle Diciamo sprecare sia soldi e sprecare anche creme solari Così a caso solo per un video Penso che apprezzerete questa mia decisione Ma bando alle ciance andiamo subito a provare La nostra prima crema solare Per l'occasione ovviamente sono struccata Perché non si possono provare da truccata Quindi per forza sono struccata Per oggi sopportatemi Anche la mia pelle è super pallida Spero non vi faccia diciamo ribrezzo Ma vuol dire che queste creme solari funzionano bene Ecco diciamola così Ma partiamo subito dalla prima crema solare Che è lei, questa qui della Nivea Ed è Protect and Bronze Ha una protezione di 50 Ed è definita alta, non molto alta Però ha anche la protezione per i raggi UVA e UVP Ha l'attivatore di melatonina resistente all'acqua E formula che non unge Ma queste sono tutte cose che adesso andremo a vedere Ho preso questa qui inizialmente Perché appunto dava l'opportunità di essere protetti Ma anche di dare un'abbronzatura E sappiete che diciamo che tutti quanti siamo attratti dal fatto che la nostra pelle venga protetta Ma anche se c'è un po' di abbronzatura non ci fa proprio schifo schifo Magari per alcuni può essere così Per me per esempio è così Per cui l'avevo presa proprio per questa ragione Infatti dice con attivatore di melatonina E soprattutto non è 50 più o più 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 come fanno alcune altre creme Ma ho una piccola cosa da confessarvi Io quando la uso non la prendo direttamente da qua dentro Ma ho fatto un piccolo hack che l'avrete visto magari negli shorts E praticamente ho preso un vecchio barattolino di un deodorante L'ho lavato, disinfettato Ho messo dentro la mia crema solare E poi dopo praticamente la vado a utilizzare in questo modo E' diventata diciamo il mio nuovo applicatore per crema solare Mi piace di più utilizzarlo così perché ne spreco meno Quando la vado a mettere sul viso non me ne scende proprio una quantità troppo alta Troppo smisurata proprio di crema Me ne esce il giusto E quindi io è vero che ce l'ho qua dentro Ma sappiate che è questa crema qua che c'è dentro questo tubicino E preferisco sempre fare in questo modo Io quando devo uscire e non metto make up Decido sempre di mettere questa crema solare Perché diciamo che è un po' pesantuccia Per andarla a mettere sotto il make up Sempre con lo stesso merito di applicazione Magari vado ad applicarla sulle braccia, sulle gambe Se avete tatuaggi anche è molto utile Bene, questa comunque è la quantità che ho adesso messo sulla mia faccia Ne ho messo una giusta quantità secondo me Non ne va messa né di più né di meno E la questione che non unge è un ni Perché è vero che non è una cosa proprio super unta Ma un po' di spessore ce l'ha Probabilmente per il fattore che questa è stata fatta Per essere messa in spiaggia E quindi deve avere un fattore di resistenza più alto Soprattutto anche per l'acqua e la sabbia E tutto quello che ne conviene Il sudore, tutto quello che ne concerne Quando si va in spiaggia Per cui è giustificato da questa cosa Secondo me questo fattore untezza in più Rispetto alle altre creme che andremo a vedere dopo Quando è già un po' che è sul viso A volte perde dei, come dire, delle palline di crema proprio Per cui per questo motivo, come vi ho già detto Ve la consiglio senza make up Ma ora vado a togliere questa crema che ho sopra Oggi sarò super protetta in viso Perché andiamo a provare il prossimo prodotto Ma prima di passare al prossimo prodotto Ragazzi, mi raccomando Iscrivetevi a questo canale Così da poterlo sostenere E insieme faremo un sacco di altre avventure Per quanto riguarda il make up La skin care Tutte queste cose che fino ad ora Sono state fatte da persone super perfettine Poi arrivo io con il mio disaster make up E stravolgo tutto quanto Mettete un mi piace anche a questo video Così che non mi faccia sentire sola Soletta Perché oggi non è neanche nessuno Che mi fa compagnia E commentate con tanti tanti soli Perché queste creme possono Come dire Resistere i raggi dei vostri soli Bene Ma adesso andiamo alla prossima crema solare Che è questa qui Alla centella Ed è della marca Mixun Per chi non conoscesse Mixun È una marca di skin care coreana E ha dei prodotti molto naturali Questa in particolare Come vi dicevo È alla centella Che è una pianta Praticamente Ed è molto idratante Questa ha una protezione 50 più SPF PA Più 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 Ha tantissimi più Quindi è veramente Molto protettiva Ah ecco Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi Anche le quantità e il prezzo Quella della Nivea Era 200 ml Per circa 9 euro 10 euro È sempre in offerta Comunque Mentre invece questa Alla centella È 50 grammi Per circa 20 euro Quindi è un pochettino Più dispendiosa Ma è molto più ricercata Per quanto riguarda La crema solare Da mettere sotto Un make up Perché questa È molto più impalpabile Non dà nessun tipo di glow Non dà nessun tipo Di altre cose Se non Proprio la protezione Ha un leggerissimo Profumo di fiori Ma proprio leggero leggero E questo è il suo assorbimento Cioè io l'ho messa Se già assorbita Devo essere sincera Ne ho messa Poco meno Di quanto ne metto di solito Perché tanto so che Trampola devo andare a togliere Ma è giusto per vedere L'assorbimento E vi devo dire Che questa si assorbe Proprio in super fretta Et voilà Voi siete già pronte Per andare a fare Il vostro make up Non unge Non appiccica Non dà veramente Nessun tipo di fastidio È una leggerissima crema Idratante Proprio leggera leggera Quindi questa Era mixun Ora levo Per quanto possibile Ancora questa crema È proprio solo Per non fare strati Su strati Quindi la levo Ed ecco qui La prossima crema solare È di Iepoda Sicuramente L'avrete vista Da qualche parte Molto spesso Magari su TikTok E su Instagram Ed è una crema solare In stick Si chiama The Sunsational Sun come sole È molto Diciamo Pratica Proprio per il fatto Che è in stick Questa ha una protezione Solare pari a 30 Ed ha anche lei Una protezione Però contro Sia i raggi UVB Che i raggi UVA Quindi questo È molto molto importante Promette di dare Alla pelle Un aspetto Vellutato E di essere Anche resistente All'acqua Ma noi adesso La andiamo A provare E io questa L'ho provata Veramente Poche volte Ultimamente Come vedete È fatta In questo modo Perché ovviamente Io ho fatto La versione cheap Però In questo modo È molto più pratico Ad andare a mettere Sul nostro viso Effettivamente In questo modo Noi Facciamo subito Perché diciamo Che non sempre Si ha il tempo Di star lì Aspettare che si asciughi Quindi Questa crema Può essere pratica Sotto questo punto di vista Ora L'ho messa Un po' ovunque E andandola a toccare Con le mani Effettivamente Ha un effetto attrito Più alto Rispetto alle altre Ed ha veramente Una sensazione Di pelle Più vellutata Più Non cremosa Ma più appunto Effetto velluto Non ci sono altre parole Per dirlo Una volta Che l'abbiamo massaggiata Si spalma bene bene E voilà Anche qua Voi siete pronti Per fare già Il vostro make up Devo essere sincera È molto buona La consiglio Ma ha un spessore Leggermente più alto Rispetto alla Mixun Però non è per niente male Anche lei Questa crema Ha dentro 18,5 grammi Di prodotto Che comunque dura Perché non è Un prodotto liquido Ma è un prodotto solido Quindi dura molto di più Ed ha un prezzo Intorno ai 20 25 29 Ovviamente dipende Se avete un codice sconto Sapete che gli Epo da Magari facendo i pacchetti Andate a pagarla meno Per cui il costo a sé Se non l'ho letto male È intorno a 25 29 euro Correggetemi se sbaglio Nei commenti Io non voglio Dire cose che non esistano Ma questo è il prezzo Da sola Vado a togliere Anche questa Ed è arrivato il momento Di farvi vedere L'ultima crema solare Della mia collezione Di quest'anno Ed è lei L'Heartless Glow Base Di Aymish Ve la faccio vedere Così questa è la scatolina Mi è arrivata Proprio qualche giorno fa E Aymish È anche lei Un brand di skin care Coreana Questa crema in particolare È sempre 50 Più Anche lei Fa sia per UVA Sia per UVB Quello che differenzia Però questa crema Rispetto alle altre È che ha due cose in più La prima che è anche Anti rughe Ed ha anche un effetto Molto glow Infatti per questo Si chiama Heartless Glow Questo è il pack Sembra una cosina Già un pochettino Più seriosa E io vado a metterne Un pochino Proprio poco E vi faccio vedere Come già questa Dà un glow Fantastico Al vostro viso Quindi se volete avere Sia un makeup naturale Con un pochettino di glow Dà anche un leggero Colorito rosato Perché in realtà Questa crema Non è proprio Bianca come le altre Ma è leggermente rosata Ed ha il viso Un leggero colore Perlaceo Ora io ne metto Ora io ne metto Veramente poca Però vi faccio vedere Come cambia Il viso Nel momento in cui Andiamo a mettere Questa crema Come già ci ritroviamo Tutte belle imperlate Brillucicose Questa Ma si asciuga Veramente In un niente Ancora Ancora Meno tempo C'è da aspettare L'asciugatura Rispetto a Mixun È veramente Una roba fantastica Ho dovuto aggiungere Ancora un po' Perché La superficie della faccia È quella che è Bisogna aggiungerne Un pochino di più Ma giusto per farvi Vedere bene Quanto sia glow Già le mie mani Stanno Sono leggermente Più illuminate Io non so se si vede In videocamera Ma questa crema Dà un effetto glow Si asciuga in frettissimo Quindi voi da adesso Potete già iniziare A fare il vostro make up Che è una cosa Molto importante Soprattutto in estate Se le cose non si asciugano più Già stai sudando Già ti devi vestire E già stai sudando E le cose devono essere Veloci istantanee E questa crema Fa proprio al caso nostro Questa è di 40 ml E anche lei Costa intorno ai 20 euro più I prezzi per le creme Diciamo buone Di alta qualità E che sono adatte Proprio al viso Per far sì che subito Dopo ci sia un make up Raga bisogna spendere Un pochettino di più Però ne vale la pena Siamo protette Siamo idratate Questa è anche Anti rughe Ma cosa vogliamo di più Anche se a me Ancora le rughe Non mi sono venute Però potrebbero venire Magari un giorno Quindi noi preveniamo E quindi Questo è l'effetto Della heartless glow Di Aymish Ora è arrivato il momento Di fare la classifica Però le abbiamo provate Le abbiamo testate Abbiamo detto la nostra Adesso si fa La classifica Partendo dal basso Ahimè C'è lei La Nivea Sun Non perché non sia buona Perché non Perché non protegga Perché come vi ho già detto Proteggere Protegge Ma per il fatto che è molto oleosa E questa va molto bene Per il corpo Soprattutto se sei in spiaggia Sappiate però che dopo un po' Vi tira fuori dei pallini bianchi Ve lo dico Cioè vi avviso Così non dite Ah ma non mi è avvisata Vi avviso Sul podio Perché siamo già sul podio Essendo quattro prodotti Abbiamo invece Al terzo posto Quella di Iepoda Ottimo il fatto Che lasci la pelle Vellutata Che si asciughi subito Praticamente È come mettere Uno stick Vellutato Ottimo il fatto Che sia in stick Quindi è molto più pratico Rispetto agli altri C'è anche meno spreco Però la protezione È a 30 In una classifica Di protezione 50 Un fattore protezione A 30 È più basso E non posso metterlo Diciamo al primo Al primo posto proprio Anche se comunque A 30 La protezione è già bella alta È perché a 30 Siamo già a un livello Di protezione alto Però diciamo Che a 30 Magari lo metterei In un momento In cui il sole Non è proprio Picchia picchia Forte forte Per cui lo mettiamo Al terzo posto Nel frattempo Che io sto facendo La classifica Voi fate anche La vostra classifica Delle vostre creme solari Qua nei commenti Mi raccomando Io le voglio leggere Perché così Posso prendere ispirazione Anche io E magari provare Qualcosa di nuovo Ma ora è arrivato Il momento di vedere Il secondo posto E al secondo posto Chi metteremo? E ho messo Mixun E vi spiego anche il perché Ottimo il fatto Che abbia Una protezione A 50 Più Ottimo il fatto Che questo brand Mixun Faccia i loro prodotti Tutti con Cose naturali Però Oltre che L'idratazione E la copertura E il fatto Che si asciughi in fretta Non dà altro in più Per cui Per questa ragione La vado a mettere Al secondo posto E vi posso dire La mia Io ve la consiglio Altamente Comunque E al primo posto Chi ci sarà A questo punto Rullo di tamburi Ed è lei La Heartless Glow Base Di Imish Come vi dicevo Mi piace molto Il fatto che abbia La protezione 50 E che abbia Anche dentro Altri fattori Oltre che la protezione Ovvero Il fatto che dia Un effetto illuminante E il fatto che sia anche Antirughe Per chi ne ha bisogno Sempre Alla fine di tutto Questa è stata La mia classifica Ve le metto in ordine Di classifica Primo posto Secondo posto Terzo posto E quarto posto Poi voi siete liberi Di dire no Io preferisco quello No io preferisco Quell'altro Io nei commenti Vi ascolto Molto volentieri Anzi scrivetemi Nei commenti Qual è la vostra Crema solare preferita Quella che proprio State utilizzando In questa estate 2024 In maniera proprio Compulsiva Io senza di lei Non posso uscire di casa E vedremo se ci sono Altre persone come voi Che apprezzano Questa vostra stessa crema Magari ci sono pure io Chi lo sa Questo video Termina qui Come sempre Vi ricordo di lasciare Un mi piace A questo video Così da sostenerlo E anche per sostenere Il canale Mi raccomando Iscrivetevi Così ci vediamo In un prossimo video Vi mando un grande bacio E al prossimo video Ciao ciao